Buongiorno, siamo collegati con la professoressa Anna Oliverio Ferraris che è stata docente di psicologia dello sviluppo per molti anni presso la Facoltà La Sapienza di Roma. Lei è un nome particolarmente noto e particolarmente importante e con lei parliamo proprio del fatto di questi giorni di questo studente che ad Abbiategrasso ha accoltellato una sua docente e quindi la cosa è diventata particolarmente, ha fatto particolarmente scalpore perché insomma per fortuna non sono casi che capitano tutti i giorni, qualcuno dice sì ma in America invece sono molto più frequenti però insomma diciamo che è un fatto che certamente fa discutere e soprattutto dovrebbe farci riflettere. Allora proprio su questo su questa questione del riflettere, senta professoressa sicuramente su questo devono riflettere un po' in tanti, forse innanzitutto i genitori e poi però anche la scuola. Allora cominciamo dai genitori, i genitori devono riflettere quando accadono queste cose? Sì devono diciamo riflettere prima nel senso che i ragazzi oggi vanno seguiti passo passo nel corso della crescita, dall'iniziale dell'infanzia fino all'adolescenza e così via insomma quindi in un mondo che non è facile, in un mondo che non è facile e che è pieno anche di stimoli contrastanti, questi ragazzi ormai esposti agli schermi ricevono una quantità di informazione, di stimoli che alla fine possono confonderli perché poi i ragazzi non sono tutti uguali, diciamo alcuni veramente si perdono e oggi poi molti soprattutto maschi vedono una grande quantità di scene di violenza dappertutto, alcune sono reali e sono quelle della guerra ma poi ci sono tutte queste fiction dove vedono scene anche di una violenza eccessiva, non so tipo gomorra, cose di questo genere, per cui i meno preparati diciamo possono anche pensare che uno alle frustrazioni reagisce con la violenza, un vero macio reagisce con la violenza e poi naturalmente un ragazzo che arriva a fare un gesto del genere è un ragazzo che ha un grande vuoto dentro di sé, cioè che ovviamente non coltiva degli interessi, non ha dei punti di riferimento validi e deve avere anche una grande confusione, non ha ricevuto un'educazione emotiva per cui è completamente schiavo delle sue emozioni, insomma l'impressione è che non sia stato sufficientemente seguito. Senta professoressa, quindi da quello che lei ci sta dicendo ci sono responsabilità delle famiglie ma probabilmente ci sono responsabilità anche un po' generalizzate anche da parte di altri soggetti che in un modo o nell'altro hanno un ruolo educativo all'interno della nostra società, ecco ci dica proprio su questo. naturalmente chi è che segue? Segue la famiglia ma segue anche la scuola, segue anche la società naturalmente perché poi un ragazzo fa anche dello sport, fa anche attività di vario genere, insomma e quindi tutti varie entità diciamo devono assumersi il compito educativo, tra cui anche la pubblicità che a volte invece se ne infischia altamente e poi crea invece dei falsi bisogni e così via, anche lì anche gli influencer per esempio, ci sono degli influencer che inviano messaggi diseducativi insomma, però loro hanno potere di muoversi sugli schermi e quindi finiscono per poi avere anche loro un certo impatto. Ecco ma però c'è anche la scuola in tutto questo, ecco quali sono le responsabilità della scuola in questo e che cosa potrebbe e dovrebbe fare la scuola? Magari per contenere questi problemi o magari per dare un supporto anche alle famiglie? Ma intanto dovrebbe essere una scuola di qualità e non tutte le scuole italiane sono scuole di qualità dove anche c'è una didattica in linea con i tempi una didattica che consenta un approccio individualizzato con i vari ragazzi perché non sono tutti uguali, non possono essere trattati tutti allo stesso modo diciamo qui c'è una carenza grossa, cioè il nostro paese non si è mai molto interessato della scuola, non a fondo insomma, magari in stupidaggini tipo le sedie con le rotelle a un certo punto, una ministra ha acquistato un gran numero di sedie con le rotelle, diciamo che erano anche controproducenti ecco dettagli del genere, ma qui c'è bisogno di persone che diciamo ripensano tutto il sistema scolastico perché in altri paesi europei questo è stato fatto cioè all'inizio del novecento con le colnovelle per esempio si è capito come bisognava organizzare la scuola nel nuovo secolo eccetera e alcuni paesi si sono organizzati, hanno anche delle buone scuole anche dal punto di vista sia dei programmi che dal punto di vista didattico preparano gli insegnanti per insegnare mentre molti dei nostri insegnanti possono essere bravi nella loro materia ma nessuno gli ha insegnato di insegnare ecco quindi a volte non riescono ad essere efficaci quindi va ripensato tutto quanto insomma invece si fanno a volte degli interventi così localizzati, parcellari che poi non risolvono nulla ma basta andare a vedere le scuole finlandesi dove i ragazzi sono soddisfatti quando gli si intervista loro dicono che sì che sono soddisfatti ma lì hanno una scuola diciamo in ogni quartiere cioè si spende molto, si spende molto per la scuola, gli insegnanti sono pagati bene, hanno uno status sociale dignitoso per cui anche il rapporto con gli insegnanti e con le famiglie naturalmente è diverso. Senta professore sacchiariamo solo un punto per evitare equivoci, qui ovviamente stiamo parlando di responsabilità della scuola e responsabilità delle famiglie ma in termini generali ovviamente non intendiamo riferirci al caso specifico che non conosciamo nel dettaglio quindi è impossibile dire se in quel caso ci siano responsabilità di questo o di quel soggetto il discorso che stiamo facendo ovviamente si capisce bene è di carattere assolutamente generale quindi non si sta puntando il dito nei confronti di nessuno poi peraltro lei è una psicologa quindi lo sa meglio di tutti noi che chiaramente per poter dare dei giudizi di questo genere bisognerebbe avere molti più dati a disposizione certo che quello che lei ha detto però è sicuramente applicabile al nostro sistema scolastico e al sistema diciamo di organizzazione familiare di questa fase che stiamo vivendo senta professoressa lei anche appunto abbiamo detto una psicologa si è occupata di psicologia dello sviluppo in modo particolare ultimamente ma per la verità è da decenni che se ne parla si riparla nuovamente di istituire lo psicologo a scuola ecco lei che cosa ne pensa sarebbe una buona soluzione potrebbe servire a qualche cosa lo psicologo a scuola e se sì quali competenze dovrebbe avere certamente fin da quando sono state aperte le due facoltà di psicologia nel 75 si parla dello psicologo a scuola il quale dovrebbe avere varie competenze cioè lavorare non soltanto con i ragazzi con i singoli ragazzi ma anche con la classe ma anche con gli insegnanti ma anche fare educazione sessuale per esempio che quella è un'altra pecca dell'italia siamo tra i cinque paesi europei che non fanno educazione sessuale nella scuola e tutti gli altri paesi lo fanno quindi deve avere una preparazione ad ampio raggio in modo da far sentire a casa proprio i ragazzi quando vanno a scuola perché la scuola deve essere un luogo di vita per i ragazzi e per gli insegnanti cioè devono sentirsi a casa loro, devono sentirsi al proprio agio quindi ci deve essere una buona relazione tra gli insegnanti e i ragazzi ma anche tra i ragazzi, anche i rapporti orizzontali sono importantissimi diciamo all'interno della classe se uno incomincia a sentirsi disprezzato dal compagno o se viene buleggiato è chiaro che poi questo influisce anche sul rendimento scolastico comunque si sente a disagio, si sente in un non luogo mentre invece la scuola deve essere un luogo in cui ti senti bene un luogo significativo di cui sei anche orgoglioso ti piace andare a scuola e ritornare l'anno successivo c'è un filo diciamo che unisce un anno all'altro e che unisce i vari ragazzi ecco quindi bisogna prestare anche molta attenzione agli aspetti emotivi agli aspetti relazionali purtroppo tradizionalmente i nostri insegnanti non erano preparati a questo si diceva tu devi andare a scuola per insegnare svolgere il programma nella tua materia e invece che lo vogliano o no gli insegnanti sono anche degli educatori la loro stessa presenza, il modo in cui si comportano la relazione che hanno con i ragazzi eccetera trasmette continuamente qualcosa Senta professoressa si parla anche del pedagogista a scuola lei cosa ne pensa? è più importante avere lo psicologo o è più importante avere il pedagogista? ma deve essere uno psicologo pedagogista entrambe le cose entrambe le cose deve essere uno psicologo scolastico se è uno psicologo scolastico avrà anche una preparazione pedagogica ovviamente però solo pedagogista senza la psicologia non lo so non mi sembra sufficiente ecco perché poi bisogna anche capire l'inconscio dei ragazzi quello che non dicono quello che non esprimono insomma quindi andare un po' in profondità conoscere un pochettino anche di psicanalisi insomma per capire quello che loro non ci dicono attraverso appunto un tipo di approccio che magari il pedagogista può non avere magari se ce l'ha a livello spontaneo sì ma insomma però serve prepararsi senza arrivare io penso che lei concordi con me ad avere in ogni scuola uno o più strizzacervelli non è uno strizzacerve cioè è una persona che cerca di creare un clima positivo sereno a scuola che è fatto di tante sfaccettature insomma deve verificare che nell'ambito della classe non ci siano gli emarginati che tutti quanti partecipino che l'insegnante sia anche preparato al rapporto sociale con i ragazzi perché ci sono anche degli insegnanti molto rigidi che non hanno questa predisposizione quindi bisogna che la sviluppino insomma se stanno insieme ai ragazzi cioè sono tantissimi aspetti e poi anche incontri tra insegnanti e famiglie perché bisogna che si crei un'alleanza tra le famiglie e gli insegnanti altrimenti non si capiscono spesso sono uno contro l'altro per esempio all'inizio dell'anno scolastico la scuola dovrebbe spiegare qual è il suo programma di insegnamento programma didattico e programma educativo anche programma educativo perché gli insegnanti sono degli educatori cioè i ragazzi passano una gran quantità di tempo con loro in loro presenza e quindi è inevitabile Senta professoressa lei prima ha detto una cosa molto interessante quando ha parlato del fatto che i ragazzi ma anche gli insegnanti dovrebbero sentirsi a scuola un po' come a casa loro ecco lei nel corso della sua lunga carriera è stata sicuramente in decine forse centinaia di scuole le è capitato spesso di visitare di trovarsi in scuole dove già solo entrando lei ha capito che lì era proprio un luogo dove le persone potevano trovarsi bene quindi si potevano trovare come a casa loro da cosa l'aveva percepito? da cosa lo si può percepire questo? Dal tipo di comunicazione come circola la comunicazione tra gli alunni e tra persone di diversa età cioè gli alunni e gli insegnanti e anche altri operatori insomma impiegati che ci possano essere a scuola sì il tipo di comunicazione è un buon indicatore ecco quindi sapere anche scherzare fidarsi ecco il ragazzo che si fida che può dire certe cose in presenza ci sono queste scuole a volte in gran parte dipende anche dai dirigenti ecco se sanno creare un clima così e poi naturalmente anche gli insegnanti quindi ci deve essere anche un coordinamento continuo tra i vari operatori scolastici questo è fondamentale ma poi in alcune scuole c'è anche il chiutoraggio tra ragazzi tra di loro insomma tra ragazzi più grandi e più piccoli basta organizzarsi perché le possibilità sono tantissime insomma anche per quanto riguarda il bullismo anche lì ci sono delle strategie di intervento che possono prevenire il bullismo e quando succede si può anche facilmente intervenire e modificare i rapporti tra ragazzi per esempio dando delle responsabilità al bullo dicendo di controllare il bullismo a scuola a quel punto lui diventa il saggio che difende i più deboli capito? cioè a volte sono cose molto semplici si tratta di invertire un po' i ruoli certo le ultime considerazioni che lei ha fatto mi fanno venire in mente che queste stesse cose le aveva dette più di cent'anni fa forse quello che è stato quasi certamente il più grande pedagogista del novecento cioè John Dewey ecco ma la domanda che le faccio e così concludiamo è questa ma come mai nonostante che in cento anni la pedagogia la psicologia dell'età evolutiva diciamo più in generale le scienze dell'educazione vadano ripetendo queste cose però purtroppo su molti aspetti siamo sempre un po' fermi cioè come mai voi scienziati venite ascoltati così poco? ma perché poi la cosa finisce nelle mani dei politici dei governanti e allora non non lo utilizzano lo utilizzano come dovrebbero così come non lo utilizzano tante altre nozioni scientifiche insomma c'è uno scollamento perlomeno secondo me c'è molto uno scollamento e invece bisognerebbe dare molto più spazio alle persone competenti preparate certo queste cose si sanno dalla fine dell'ottocento poi c'è stato tutto il movimento delle colnovelle che è andato avanti per anni e così via alcuni paesi le hanno queste cose le hanno ricevute le hanno fatte proprio le hanno sviluppate in Italia no ci si è attestati sul metodo tradizionale ma persino la Montessori ha dovuto andare fuori dall'Italia a un certo punto ecco perché proprio perché non c'è un ascolto di questo ci sono alcuni personaggi che vogliono indirizzare le cose in un certo modo anche per l'educazione sessuale dal 1902 che si parla di educazione sessuale nelle scuole da quando c'era la sifilide molto diffusa eccetera eccetera e noi siamo ancora senza educazione sessuale perché ci sono delle forze che poi contrastano ovviamente oggi ci sono le paure dei genitori temono che si parli di omosessualità di transgender e così via mentre in altri paesi la cosa è normalissima insomma e quindi probabilmente ecco il fatto che ci siano forze contrapposte in Italia ideologie contrapposte alla fine si bloccano professoressa davvero noi la ringraziamo molto per questa bella chiacchierata che ci ha concesso mi pare che lei ci abbia dato molti spunti di riflessione a noi che l'abbiamo intervistata ma anche molti spunti per chi ci ascolta quindi per gli insegnanti per i nostri lettori e anche per le famiglie e probabilmente anche per gli studenti se ci sono studenti che ascolteranno magari anche per loro qualche cosa di utile in quello che lei ha detto c'è di sicuro grazie ancora professoressa davvero è stato un piacere grazie a tutti grazie a tutti